ciao fragoline ciao fragolini allora benvenuti nella mia nuova casa il primo video che registro cioè il secondo che registro però per i gratte vinci ovviamente è il primo comunque ho preso questi due gratte vinci un magico natale quello della ghirlanda allora costa 13 euro e non presi due per cui in totale 6 euro questi sono bagnati non so perché comunque preso questi due di gratte vinci adesso proviamo a giocare insieme e vediamo se porta fortuna oppure no calcolate che questi due gratte vinci l'ho presi in un bar qui di fronte a casa mia alla nuova casa per cui vediamo se porto fortuna chi lo sa però credo che dal titolo l'ho già ve l'ho già spoilerato per cui andiamo a vedere quanto ho vinto allora proviamo così ovviamente mi devo ancora organizzare per i cavalletti e scusate per la luce ma è nuvoloso e non si vede diciamo bene però proviamo a vedere se riuscite a vedere lo stesso i numeri devo grattare con una mano e con l'altra tenere diciamo il telefono proviamo a vedere se riesco allora dobbiamo trovare i simboli uguali già iniziare così difficilissimo grattare con con una mano non ci riesco ok spero che sto registrando perché non è il massimo comunque spero che riuscite a vedere ho provato a cambiare inquadratura perché con una mano non si riesce allora dobbiamo trovare i stessi simboli uguali allora qua è il razzo poi orologio cappello spumante ovviamente questo è nuovo e è la prima volta che l'ho preso quanto regalo regalo dolce pupazzo regalo calza angelo luna e per finire pattino allora vediamo il simbolo allora qua dice simbolo pupazzo bonus di 3 euro per cui abbiamo trovato regalo 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 che sono tre però devi avere ovviamente tra le cinque cinque o più simboli vuol dire che devo trovare cinque simboli uguali qua cinque simboli uguali non ci sono per cui perché in teoria è questo qua in teoria però diciamo che questo è perdente perché non non ci sono i cinque simboli uguali non ci sono i cinque simboli uguali qua ce ne sono tre pupazzo ce n'era uno per cui niente proviamo a vedere questo il secondo allora così lo vedete ok qua abbiamo un regalo un altro regalo siamo già due tre con il terzo poi abbiamo il razzo la tombola il guanto fuoco abbiamo il dolce pupazzo pupazzo abbiamo il tappo cappello il calice orologio e un altro regalo per cui siamo uno due tre quattro regali vediamo col bonus e troviamo se c'è un altro regalino questo è il bonus calza però nella griganda trovi cinque o più simboli vinci il premio corrispondente a come indicato di tabella primi se sotto le stelle della griganda trovi il simbolo bonus vinci il premio indicato per cui direi che ho sbagliato io perché in poche parole il biglietto vincente è il primo e non mi sono diciamo accorta perché abbiamo il simbolo il simbolo bonus praticamente che è il pupazzo e ho visto adesso che con il simbolo col bonus trovi il pupazzo e abbiamo vinto 3 euro per cui come sempre ho sbagliato io ho guardato male e non mi sono resa conto che c'era il pupazzo con pupazzo. bene direi che iniziamo male questo video comunque ho letto dietro però non ho visto che c'era il pupazzo con il pupazzo per cui giustamente trovi o cinque simboli uguali e vinci il premio oppure c'è scritto il simbolo per vincere il premio. in poche parole questo per cui come sempre anche questo video ho sbagliato di nuovo e vabbè comunque sappiamo che abbiamo vinto.